Quanto fattura Marco Capelli della Marco Capelli Agency, ossia il fondatore, il founder di Gurulandia, il podcast più ascoltato nel 2023? Ebbene, è proprio lo stesso Marco a rispondere, però attenzione perché noi parliamo di fatturato, ma non sappiamo se effettivamente si riferisce solamente alla vendita di corsi, oppure per esempio anche alla monetizzazione su YouTube e sugli altri tipi di social o anche a qualcos'altro. Insomma, non sappiamo con certezza di che cosa si parla, comunque ti lascio il video. Più cresceva Gurulandia e più cresceva poi il fatturato, non c'è stata proprio quella, una puntata in particolare o un momento in cui è stato molto graduale, anche il fatturato mensile, veramente è proprio se ti faccio vedere in un grafico, così mi sembra che un'intervista è un per tre praticamente. Diciamo che il lato formazione si fatturava sui 100.000 euro mensili prima di Gurulandia, ora siamo sicuro certo come ti dicevo.